salve a tutti siamo tornati su una partita di fifa contro un mio amico raffaele vuoi salutare ragazzi allora stiamo facendo una nuova serie una nuova specie di serie che faremo una partita online contro un mio amico e chi perde pagherà un pigno mo iniziamo questa serie con raffaele lui è il primo ospite come ti senti a essere il primo ospite? un grande onore è un onore giocare con me io sono il numero uno allora iniziamo le magliette quale ti piace? io aspetta va bene c'ho solo questo ah la bianca c'ho ok stiamo iniziando iniziamo a fare questa parte di gestione squadra facciamo una bella formazione così lo distruggiamo e pagherà a pigno il pigno consiste di bere un metà al limone senza niente su un bicchiere di limone intero poi mano a mano se andiamo avanti con questa piccola serie faremo altre sfide e cerchiamo di trovare altri compagni miei che vogliono giocare anche loro contro di me e fare delle penitenze finali intanto vincerò io diciamo sei minuti si in posto ok io sono pronto Pietro spero di fare una grandissima partita così ti faccio bere un bicchiere di limone sano ok iniziamo e calma di calma di inizia con un grandissimo gol mamma mia subito ma ne sta in forma ma ne te lo dico chi? ma ne sta in forma mi mani 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 correrà per tutta la fascia come un pazzo non levare non levare siamo qui godendoci questa partita Liverpool Paris Saint Germain potrebbe essere una bella partita anche di Champions però noi la facciamo amiche gole la cazza io e su un saluto a tutti ci spartiamo così come Bobbi filmino e iniziamo la partita non gli bianchi il Paris Saint Germain io per esempio iniziamo il fraseggio sul palleggio grande mani ma è ma ne l'altra è la prima primo gol ma non fa la prima da capo tovoli vediamo il frasano con la parola prende la parola è il primo lo segno io ricomincia con il liverpool che siamo benissimo 4 minuti in buccia e dell'estate 2017 e qualcosa che resta a lungo della storia anche per la cifra complessiva sbordi un'anima negli genza che dici alla bobbia che l'altra bobbia aspettiamo un piano che l'espetta ancora emerson bobbia dietro tiro muravolo di pensione ma che non stai attaccando le paura firmino il recupero di verrati ma nardino ancora alxano robbi ederson nuovamente firmino andriamo cittadini che ci mostra il gol si sono portati alex il progetto il progetto il progetto il progetto eb il ritenzo di città non ho capito quando i miei per raffaele davvero una grande giocata lo sto parlando il portiere lo sto parlando il è stato indisturbato era facilissimo ma approfittato della buona libertà ma avuto problemi a bianco la parola la parola la parola la parola la parola l'allungato portato se sul 2 a 0 troppo forte guadagno a metri può crossare da lì mezzo grande intervento del difensore in area viene fermato recuperano il pallone c'è spazio per andare con Giovanni tutto fermo Cavani e lo sai grande recupero è ripartito il controvedere con Bobby supera tutti Bobby vai allo qua non faccio niente anche per te un'occasione sono un amico l'arrivo in un gruppo per amore paladino portiere che sventa la conclusione perché non ha parlato a sbavata di corrispondenza pocettino un po' ancora rischi e sceglie i pugni Mamma mia Accorano Sarà una bella partita Ma ho fatto io Chiriamo in modo molto ampio Penso Mamma mia che prende Piano piano C'è un po' con quello Hanno finalizzato nel peggiorno Lo spandiamo se no Partiamo sempre piano Bandic Tengono palla banalmente Occasione per accorciare le distanze attenzione Ci sta ci sta Ho fatto pure il risultato non me ne vedo Avrebbero dischiato di margare Il punteggio adesso è di 2 a 1 Intervento efficace del difensore Che intercetta il lancio e recupera palla Attenzione Il lancio profondo dei carri No eh Ma ho fatto fermo il mio portiere Non ho fatto niente E guarda Fantastico della partita E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Ah ok va bene Ah Ah Ok va bene Sento meno male che non mi ho fatto Di goglia una penitenza C'è la tusce La rimessa con le mani A disposizione del Se mi piace Lo faremo al prossimo video Con un altro Personaggio La bufferevo Con di penicenza E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' mamma ammette così si gioca così in vario il vostro fan siamo da me a maria alla fine di tv sarai non so perchè il portiere mamma che gioco che gioco 3 a 2 mamma che partita tutto il primo tempo ragazzi solo il primo testa fredda siamo solo nel primo tempo si trova che lornava hanno rischiato troppo qui conclusione che sembrava destinata il prova di nuovo la rete di nuovo sotto misura col pallone tra il portiere contro piede viene bloccato portato la bomba bobby bobbio si ferma aspetta bobbio insieme a dire 3 gol non è diverso pato tutto passaggio adesso ti caccio ti caccio e danni bravo qui il difensore che legge bene questo pallone oh mamma mia mamma mia che erano abilato grazie arbitro finisce il primo tempo un leggero 3 a 2 con 10 tiro 8 a porta io sobrio, elegante, pochi 4-3-2 va buona vai andiamo col secondo aspetta cambi morto e noi aspettiamo vogliamo ci fanno come il momento bello storico dovete stare a casa non potete uscire state a casa no so dicendo ai tifosi che stanno qua ok inizia alzion primo pallone della ripresa giocato dal pari mario il suo parato grande recupero mamma mia che recupero qua 3-2 gol che la Stefano Nava ha un commetto sulla prestazione di Manet come l'hai visto fin qui se la sua squadra inventa non si lascia sorprendere qui il portiere non si lascia per Ratti sbagliato no è pure pia 30 pallone in faccia torna indietro il pallone non è fuggiolo dai mi fai rimanere male così si riparte con la punizione per il Paris Saint Germain dai dai che ci possiamo fare a vincere questa partita non voglio bene il limone viene affrontato da un avversario non è buono pure di Magri bobbè è venuto il limone ottima visione di gioco qui azione che sfumano da questo ti faccio un fallo e te lo faccio ti conviene non è vole nooo mi sono allungato troppo mi sono allungato di maria mbappé punta l'area mi sono allungato mi sono allungato ma che fatti uscire la mette di maria non penso bappé intervento efficace del difensore che intercetta il lancio a recuperare grande come ho capito che ho detto occhio a cavani ah ok che avevi fatto il cimbarso io tutto un benzato però è troppo dai no dai 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 taglia nel mezzo uuuu mamma mia che ha preso ferma la mano avversaria vai! 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 ottima posizione! olé! olé! però ha sbagliato tutto il paloamento che lo faceva invece no ha tirato mezza altezza ma neee! e con questo sono tre vedremo se si ferrò racconto che gol! e come è col tuo di pallone invitante può andare al cross vedi no! ma non è stagionato goal il livello avanti nel punteggio a poco dalla fine con i tifosi che fanno festa interando coria l'indirizzo dei giocatori in campo animano la partita e qui ti prezzo qualche giocatore uno che c'è da fuori eh chi tengo? perfetto nessuno dove parte il controvide con Mané io te l'ho detto ma li stavo in forno ma non li stai credendo non li vedi ah risolve problemi grande intervento pudo strafare andiamo a bordo campo Matteo quanto c'è ancora da giocare? sul cronometro Pier mancano ancora quindici minuti al novantesimo d'accordo grazie da profondo Firmino l'antissimo del portiere decisivo riusciò a prendere quel pallone può metterla in mezzo da lì verrati uuuu con qualità settiglia di lirai e parte ancora Mané che controvide evidentemente sono incappato in una giornata roba questo è legale questo cazzo di cenza può andare in porta eh segna Mané quattro gol è illegale ragazzi è illegale è illegale è illegale è illegale immarcabile oggi questa attaccante non ha sbagliato praticamente questo quanto ho visto che correva questo quasi fa si beffe dei difessori ogni ora buona l'idea di Cavani falla lunga per Di Maria uh grande roberto ma dove ti fa paura tocco orizzontale ma maia Fabinho ma che apertura che hanno fatto occhio all'avanzata occasione d'oro gola è tra l'uertsai a 2 con Fabinho guà fra hai preso una batosta esagerata è fortissimo facciamola mettiamola a chiedere un po' c'è uno gioco da tempo non c'è niente un altro gol hai diballato diballato ah guai a 6 a 3 non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' che ha preso ma no che aveva preso che aveva preso che aveva preso da elogiare da sottolineare ma visto che è troppo facile mettere le pressioni facciamo qualcos'altro poi deciderò nel prossimo video che penso lo farò di nuovo con tutti i vetti da l'aria vincita perché hai perso 6 a 4 una brutta sconfitta finisce qui la partita faremo un'altra penitenza boh mi devi mandare il video e bere il limone va bene ragazzi qua finisce la partita è inutile che ve la faccio torniamo a cosa mettiamo non pronto finisce qui mo' aspettiamo che riesce il video che mi manda Raffaele il video del suo beberaggio di limone e montere tutto assieme finisce qui spero che vi sia piaciuto questa nuova serie che faremo sul mio canale vi invito a mettere mi piace e iscriverti al mio canale ciao a tutti salutare ciao ragazzi ciao ciao ciao